come vi ho detto allora oggi parleremo non solo di brevetti per invenzione industriale ma anche brevetti per modelli di utilità allora cerchiamo di capire che diavolo sono sti modelli di utilità e la definizione la troviamo negli articoli o 2592 del codice civile a sua volta poi ha ripreso anche dall'articolo 82 del codice della proprietà industriale cosiddetto CPI quindi questo acronimo da qua in poi dovrete prenderci un po' di confidenza perché riguarda sempre quel testo normativo l'articolo 82 CPI prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse strumenti utensili ovvero oggetti di uso in genere quali i nuovi modelli consistenti in particolare conformazione disposizione configurazione combinazione di parti questo è interessante per voi perché i modelli di utilità saranno diciamo la forma di tutela per tutti coloro che lavoreranno nella nella progettazione di componentistica di hardware di vario tipo anche apparecchiatura industriale oppure modelli di automobile motori di cose del genere ok quindi non è ancora un vedete non ha una funzione di vera invenzione cioè non aggiunge nulla alla tecnica però rende qualcosa rende più facilmente utilizzabile rende migliore l'utilizzo di alcune di alcuni oggetti di alcuni di alcune vedete conformazione a disposizione configurazioni quindi per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego il famoso cioè tutti i vari studi sulla cosiddetta usabilità cioè il fatto che un oggetto ma anche un'interfaccia software qua parliamo più che altro di oggetti quindi non confondiamo però un'interfaccia so scusate un oggetto che serve a fare una a svolgere una funzione renda quella funzione vedete più comoda nell'utilizzo renda quel quell'apparecchio quel quel motore quel applicato quel oggetto industriale quel macchinario industriale più efficace o più comodo da utilizzare e a volte è difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione cioè ci dice questo vedete lo tratto dal sito dell'ufficio italiano brevetti marchi uibm ufficio italiano brevetti marchi lo dice lui stesso a volte è difficile tracciare il confine tra il concetto di modello di utilità e il modello di invenzione allora alcuni considerano il modello di utilità come una piccola invenzione si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente ecco questo è un po questo ve lo dovreste imparare cioè una piccola invenzione detto così è un po poco e poi banalizza un po la questione è dire che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente invece è già più è già più appropriato come 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 descrizione come definizione in generale allora chiuso il discorso sulle su cosa si intende per modelli di utilità vediamo un po come si svolge la vita di un brevetto in realtà cioè allora la vita di un brevetto anche qua mi sembra che l'ho preso sì sempre dall'ufficio dal sito dell'ufficio brevetti marchi italiano la vita del brevetto non si ferma con la sua concessione cioè ci sta dicendo che in realtà tutto il lavoro che vi ho già descritto prima cioè che costa molto caro perché gli uffici che fanno consulenza in materia di invenzioni devono confezionare in modo solido l'invenzione e la sua descrizione una volta che tu ottieni il brevetto e quindi va a buon fine la registrazione non sei neanche a metà del lavoro nel senso che poi il brevetto va implementato sviluppato e in alcuni casi ceduto cioè si fa business su un'invenzione proprio perché a volte non siamo noi cioè non è direttamente il soggetto che ha registrato il brevetto a sfruttare quell'invenzione bensì altri soggetti che prendono in licenza l'invenzione pagano appunto una licenza per poter sviluppare per poterla implementare nei loro i loro prodotti quindi i brevetti per invenzione sono infatti protetti da un utilizzo non autorizzato per un periodo di di vent'anni l'abbiamo già detto mentre per i modelli di utilità ecco questo non l'avevamo detto prima in effetti andava magari aggiunto nella slide i modelli di utilità invece durano dieci anni a partire dalla data di deposito degli stessi ma solo a condizione che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e durante tre periodi non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca quindi insomma la vita il brevetto cioè il l'autore di una di un'invenzione l'inventore colui che poi si occupa anche della della registrazione non finisce i suoi patemi nel momento in cui l'ha registrato perché deve poi implementarlo deve continuare a pagare se ci sono se ci sono dei 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 degli oneri se l'ufficio se l'ufficio pone dei dei degli oneri per il mantenimento dell'invita del brevetto e soprattutto che nel frattempo non ci siano richieste di invalidità o di revoca perché cosa succede al momento in cui io faccio un brevetto cioè quindi ottengo il brevetto di fronte all'ufficio all'ufficio competente l'ufficio pubblica la mia la mia descrizione cioè pubblica la mia documentazione quindi quelle 150 200 300 pagine a seconda dei casi in cui spiego tutto e poi qualcuno verrà a guardare nel senso che i miei concorrenti cioè altre aziende che fanno più o meno lo stesso mestiere e che temono che qualcuno gli si metta di traverso vengono a vedere e notano che quello che io sto facendo quello che io ho brevettato in realtà è molto molto simile a una cosa che loro stanno già facendo quindi ad esempio potrebbe essere in violazione di un loro precedente brevetto oppure più semplicemente quello che io dichiaro di essere di aver inventato in realtà non è una vera invenzione perché è una soluzione che è nota a tutti gli operatori del settore e semplicemente io sono riuscito a travestirla così bene da invenzione per cui l'ufficio brevetti che non può essere competente in tutte in tutte le materie capite cioè ha una competenza più che altro amministrativa di controllo formale ma non può sapere davvero tutte le varie i vari risvolti della scienza della tecnica di tutti i campi e allora in quel caso arriva questo mio concorrente fa notare che il mio brevetto è invalido perché gli manca uno dei requisiti ad esempio la novità cioè non c'è stata davvero novità e non c'è stata davvero attività inventiva non ho fatto altro che confezionare per bene e travestire da brevetto da invenzione qualcosa che tutti più o meno avrebbero fatto in quel modo nel medesimo periodo quindi durante il periodo di tutela il titolare del brevetto della privativa può attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi quindi dall'altro lato invece se il titolare del brevetto scopre che invece altri stanno indebitamente utilizzando la sua invenzione allora può fare cause può mandare lettere di diffida può chiedere compensi e licenze per l'utilizzo e per lo sfruttamento della sua invenzione se questo si riferisce alla vita legale di un brevetto quindi l'aspetto puramente illegale che è quello di cui mi occupo io la vita economica dello stesso invece del brevetto prevede la possibilità di concessione di licenze di vendite di altre modalità di sfruttamento come vi ho già detto prima che il titolare dei diritti deve regolarmente notificare come pure se la tecnologia coperta diventa obsoleta se non può essere commercializzato se il prodotto su cui si basa non riscontra successo nel mercato il titolare del brevetto può decidere di non rinnovarlo quindi in alcuni casi a volte a un certo punto il brevetto viene volutamente abbandonato perché non è più remunerativo la tecnologia non interessa più perché deve stata superata e via dicendo lasciando quindi che esso perda validità prima della scadenza del termine di protezione e rendendo l'invenzione libera da vincoli di produzione e di commercializzazione da parte di terzi insomma qualsiasi cambiamento intercorre nella vita di un brevetto viene tracciato secondo modalità e procedure definite vi è poi da qui sono sempre sul sito dell'ufficio dell'ufficio dell'uibm vi è poi da qualche anno la possibilità di fare un brevetto su scala europea come succede per il marchio quindi non è cosa da poco perché vuol dire che io con un'unica registrazione con un unico deposito di brevetto ottengo scusate deposito di invenzione ottengo un brevetto che è valido su tutto il territorio dell'unione europea il brevetto europeo è un brevetto quindi per invenzione industriale o modello di utilità che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito esame e concessione la procedura di concessione prevede un'unica domanda redatta in un'unica in una lingua scelta tra inglese francese tedesco e permette di ottenere un brevetto negli stati membri dell'organizzazione europea dei brevetti disegnati dal richiedente quindi potete scegliere anche solo con un'unica registrazione presso un ufficio europeo però potete scegliere di disegnare specifici paesi all'interno dell'unione europea non necessariamente tutti i 27 è inoltre possibile chiedere la protezione conferita del brevetto europeo anche in altri stati non membri che ne autorizzano l'estensione sul loro territorio i brevetto europei conferiscono al titolare negli stati membri degli stati negli stati membri desegnati una una volta esplicata la procedura di convalida nazionale i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto agli stessi stati quindi attenzione non è proprio un brevetto che automaticamente copre su tutti i paesi dell'unione europea forse io prima vi ho detto l'ho introdotto così non vorrei essere furbiante ma più propriamente cioè è un'unica procedura di brevetto sui a livello europeo che poi alla seconda di come viene calibrata di come viene scelta vedete nella designazione dei vari paesi esercita i suoi effetti all'interno dei vari paesi come se fossero singole registrazioni brevettuali nazionali no quindi invece invece di andare a fare un brevetto presso l'ufficio brevetti italiano e poi fare un altro deposito presso l'ufficio brevetti francese e uno tedesco che mi costa per tre volte la compilazione di moduli gli avvocati via dicendo faccio un'unica presso un unico ufficio faccio la domanda di brevetto e chiedo che venga che diventi efficace sul territorio di italia germania e francia ok questo è più più propriamente il concetto la domanda di brevetto europeo può essere depositata presso l'ufficio europeo dei brevetti cosetto epo nelle sedi di monaco di baviera laia e berlino oppure presso gli uffici brevetti nazionali degli stati contraenti quali poi a loro volta diciamo rimandano a cioè se non volete fare riferimento direttamente alle sedi alle tre sedi centrali potete farlo per il tramite dell'ufficio italiano marchi e brevetti quale brevetti e marchi il quale poi si farà da intermediario e portavoce della pratica la procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi quella di deposito della domanda che comprende l'esame delle condizioni formali e la ricerca dell'anteriorità cioè il fatto che ci siano altre cose prima che si assomiglino e si conclude con la pubblicazione della domanda del rapporto di ricerca e quella dell'esame di merito della domanda che si conclude con l'eventuale concessione del brevetto cioè tra il deposito della domanda e la vera concessione del brevetto l'effettiva concessione del brevetto passano dei mesi in cui da un lato si espone il brevetto alle eventuali contestazioni e opposizioni da parte di altri soggetti concorrenti dall'altro l'ufficio fa già di per sé un esame che va un po più del merito quindi il primo step è un controllo al lato del deposito c'è un controllo che è più che altro formale e di ricerca di cose di invenzioni che possono anche puramente così a livello nominale essere simili o assomigliare secondo step è quello di una fase in cui viene congelato e si attende che vada a buon fine la registrazione dopodiché se non ci sono cose che ostano allora viene concesso il brevetto se il brevetto viene concesso quindi il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli stati da lui disegnati o solo in alcuni di essi